Bene, se vuoi vivere con gusto, questo è il posto giusto, ma friggi anche un po' di melanzane Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta Se vuoi vivere con gusto, due cuori e una k, è il posto giusto Bene, ciao a tutti e benvenuti qui Dove ombretta è sempre più stanca di queste intro, di fare questi video Perché veramente non abbiamo, non riceviamo soddisfazione Non riceviamo mai 100.000 like, neanche 100.000 euro, come mai questa cosa? Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale Ma secondo voi, prima o poi, lei imparerà questa frase di inizio? Secondo me, no, mai Bene, bene, e invece no abbiamo Dice sempre bene, non va niente bene Va benissimo, abbiamo ricevuto quanti like? 100 like? Ma quando mai? Io ne volevo 100.000, ma 100 vanno bene E quindi, ecco la ricetta per oggi Oggi prepariamo insieme la parmigiana di melanzane Quella buona, quella che dove ci si insuppa il pane Si fa la scarpetta per tutta la vita Quella ricca di gusto, quella che faccio io Quindi spostiamoci di là e andiamo a vedere ombretta come la fa Ed eccoci pronti per la preparazione della nostra parmigiana di melanzane Allora, innanzitutto delle melanzane fritte Io uso per la parmigiana solo ed esclusivamente queste Queste sono melanzane bowling che chiamate Noi in Sicilia le chiamiamo melanzane seta Sono quelle di un violetto, quelle tonde di un violetto più chiaro Adesso Sono sette perché sono più delicate, no? E ne ho fritte Una, due, tre, quattro, cinque, sei Sette, otto, nove, dieci, undici, dodici Fette in abbondante olio di semi di girasole Vi faccio vedere come le frigo In un pentolino con l'olio bello alto Si è appannato tutto Con l'olio bello alto le faccio andare così Poi non vi dico la quantità perché tutto dipende dalla vostra teglia Io userò questa teglia in cui andavo adagiando le melanzane man mano che le friggevo Poi spergerò l'olio un po' su tutto E domani siamo in quattro C'è una piccola scampagnata Facciamo una piccola scampagnata Quindi per quattro una teglia da 18 cm 12 fette di melanzane Io userò tre uova Una mozzarella Uova sode Sode, certo Del parmigiano reggiano Il mio segreto per la parmigiana sono queste Molti non condivideranno ma per me sono essenziali Perché danno quella cremosità al tutto Le sottilette Allora per la mia parmigiana non ci sono quantità Si va ad occhio Però in generale penso che 5 sottilette bastino Così come penso che un 150 grammi di parmigiano basti E infine non da ultimo una buona salsa di pomodori Io l'ho fatta di pomodorini Guardate ci sono i bei pezzettini di pomodorini dentro Bene, cominciamo subito Allora in una teglietta Versate un pochino di pomodoro Scusate se sentite il frigolare dell'olio Ma sto ancora friggendo melanzane Ad agio Sulla mia pirofila Le melanzane che ho diviso A metà per una questione di praticità Questo ci vorrà poi nel taglio Quando si devono fare le porzioni, giusto? No, agevola a me adesso Su questa base Metto le uova Il parmigiano Assolutamente con le mani ragazzi Assolutamente con le mani Anzi più sono sporche più ve ne meglio No, le mani sono pulite La mozzarella Qualche pezzettino La gente che ci mette i ustel Tu ti consigli? No, assolutamente Bene E una sottiletta Anche questa Spezzettata E mista Alla mozzarella Perfetto Un po' di salsa Con questi bei pezzettoni di pomodoro E siamo pronti per il secondo strato In questo caso parto col parmigiano Mi fa più simpatia Adagio l'uovo La mozzarella E la sottiletta Ah, e un pochino ancora di parmigiano Se no non è una parmigiana Poi ancora pomodoro Perfetto Melanzana E quindi parmigiano Una bella manciata Ultimo stratino di mozzarella Uova Sottiletta Pomodoro Ultimo strato di melanzane Che Nel mio caso Stanno cuocendo Ok A questo punto Copriamo con Il pomodoro Una bella Spolverizzata Di parmigiano E in forno A 180 gradi Con forno combinato Statico e ventilato Se lo avete solo statico Fate 190 Per 20 minuti Dopodiché Tiriamo fuori dal forno Facciamo raffreddare Completamente Quindi mangiare A temperatura Ambiente Con abbondante pane Ora Metto questa in forno E noi ci vediamo Tra 20 minuti Ed eccola pronta Appena appena sfornata Un profumo Estasiante Ragazzi Io vi ho detto Che domani Siamo in 4 Ma questa È per 1, 2, 3 4, 5 6, 8 persone Perché è bella alta Anche se stretta Noi siamo Con due uomini Diciamo che c'è Gabriele e suo papino Che mangiano per 8 Però In generale Non è per 4 persone È bella sostanziosa È anche bella carica di olio È bella carica di cottura Condimenti È una parmigiana C'è anche la sparmigiana Per quelli light Ve la lasciamo qui Dove ce la dico il pallino Quella leggera Per le persone a dieta Che vogliono mantenere bene la linea Ma ogni tanto Una parmigiana Ci sta Questa è la prima volta Che la faccio quest'anno Vi dico solo questo Brava E quindi Ah Una cosa Non ho salato Le melanzane Perché tutto il resto Conteneva sale La salsa conteneva sale Il parmigiano È bello sapido Dillo Anche la teglia conteneva sale Quindi non ho aggiunto altro sale Le sottilette sono sapide Però Se a voi piace Più Ancora più sapida Mettete il sale Anche sulle melanzane E quindi Non ve la consiglio Ringraziamo Suor Ombretta Per queste sue raccomandazioni E mi raccomando Se ve ne fregate dell'olio Se ve ne fregate della melanzana Se ve ne fregate di tutto Delle calorie Bene Può essere la ricetta giusta Provatela Provatela E fateci sapere Cosa ne pensate È buonissima ragazzi È veramente buonissima Stanotte riposerà Come una brava bambina In frigorifero E domani Sarà prontissima Per essere mangiata E per mantenere la fetta Io spero di arrivarci A farvi vedere la fetta E qui il piccolo Enzo Vi dice di mettere Quanti pollici in su No così Lo devi mettere così Se no è sempre un pollice in giù Bravissimo Mettete un pollice in su Mi raccomando Vi lasciamo le foto E noi ci vediamo Alla prossima ricetta Ciao Bene Avete visto questa ricetta È veramente una ricetta Leggera No? Direi Direi Una di quelle ricette Che ci invidiano Anche i giapponesi No Questa ce la invidiano Veramente i giapponesi Ragazzi Leggera non è No no Veramente Estiva è Estiva Estiva Quindi Non portatela sotto l'ombrellone Vi prego Vi prego Sì 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 No Perché sprigiona Con quel caldo Tutte le Non è bello Non è bello Vedersi la parmigiana Sotto l'ombrellone Però All'interno delle vostre case Dove nessuno Può sindacare E allora lì Sì Che dovete affondare Il pezzo di pane E tirare su E portare la bocca E godere Godere Quindi Mettete il basilico Cosa che io Non ho messo Perché non ce l'avevo Mea culpa Voi mettete Vero Manca il basilico Perché ci sta molto buono E noi Ci vediamo sempre qui Alla prossima parmigiana Sulle vostre tavole Fate la ricetta E diteci se non è perfetta Ci vediamo presto Ciao Sulle vostre tavole Sulle vostre tavole Ciao 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 Ciao